Musica Bentrovati con l'edizione di Stadionews24 dell'Isalo Piccolo Dopo aver visto Provercelli Palermo parla Maurizio Zamparini il patron rosa nero piuttosto amareggiato anche per l'arbitraggio sembra confermare per il momento il tecnico Bruno Tedino ma la sua analisi del resto proprio della partita a Vercelli è spietata e senza appelli Zamparini dichiara intanto che non è un periodo fortunato per il rosa nero visto anche il gol arrivato all'ultimo minuto a Perugia ma tuttavia questo non può oscurare un problema di fondo per l'imprenditore il Palermo infatti non ha mai imposto il suo gioco a Vercelli e dunque Tedino dovrà rimediare al più presto anche sottoponendo a revisione la difesa a quattro il patron lancia dunque alcune frecciate al tecnico dichiarando come sia più importante tirare in porta piuttosto che effettuare il possesso nelle varie fasi di gioco Ascoli sarà quasi certamente l'ultima spiaggia proprio per Tedino e dopo il pareggio in Lombardia in casa a Rosa Nero si pensa già al turno infrasettimanale con il match di martedì in casa contro l'Ascoli ancora problemi di infermieria in vista di una sfida sostanzialmente da dentro fuori proprio per Tedino il tecnico è pronto a tornare ad un assetto a tre che prevede Belushi Struna insieme a Raikovic a centrocampo Rolando si adatterà sulla sinistra per ricoprire il ruolo di esterno anche su richiesta dello stesso Zamparini Rispoli invece giocherà sulla fascia opposta a destra i problemi alla spalla di Ciocev spingono Tedino ad impiegare sia Gaurè che Muranski come mezzali al fianco di Gliaglielo con Coronado che invece giocherà presumibilmente più avanzato infine in attacco si prevede proprio per il ruolo di Coronado un duo formato da Nestorovski e Lagumina è tutto per questa edizione del Isalo Piccolo appuntamento alla prossima